E' pronta per ripartire la stagione scistica dell'Alto Sangro che per il giorno dell'Immacolata è in grado di inaugurare la stagione 2012-2013. Non si esclude che si apra giovedì prossimo sempre se la neve continuerà a cadere e se le temperature si abbasseranno a tal punto da poter sparare neve artificiale. E così dopo la nevicata di fine ottobre arriva a distanza di un mese quella neve tanto desiderata dall'intero comprensorio che potrebbe portare già dalla prossima settimana migliaia di appassionati sulle piste da sci. Il comprensorio è pronto e speriamo che quest'anno la neve riesca a far respirare gli operatori e i tanti imprenditori che certo non stanno attraversando un periodo facile come tutti d'altronde. Intanto l'Alto Sangro e il Centro Abruzzo collaborano e pensano ad incentivare il turismo montano attraverso la riduzione dei prezzi degli abbonamenti stagionali che va dal 50 al 70%. Pronto il tesseramento, un'assoluta novità per il mondo dello sci locale. La collaborazione messa in atto prevede l'acquisto degli ski pass ad un prezzo inferiore rispetto agli anni scorsi. Per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni l'abbonamento costerà 50 euro. Dai 14 ai 18 anni il costo sarà di 280 euro a fronte di 430 euro dell'anno passato. Per gli adulti invece il costo dello stagionale sarà di 390 euro a fronte di 490 euro dello scorso anno. Chiaramente con la tessera sarà possibile sciare su complessivi 120 chilometri di piste per un totale di 32 impianti. Non si esclude che questi benefici siano estesi anche alle baite e ai punti ristoro. Finalmente si incomincia a parlare con la stessa lingua in un comprensorio unico. Al progetto hanno aderito 11 comuni della Conca Pelligna, Sulmona, Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano, Pratola, Prezza, Raiano, Rocca Casale e Vittorito. Ma nel giro di una settimana probabilmente i benefici verranno allargati anche alla Valle del Sagittario e per la precisione ai comuni di Scanno, Cocullo, Anversa e Villalago. Così da coprire tutto il territorio di competenza della comunità a Montanapelligna. Per ottenere lo sconto bisognerà presentare un certificato di residenza ed avere minimo 15 anni.